Ciao a tutti, ciao amici salpisti, tutti quanti vi saluto, ciao Deglio e niente, volevo dire che venerdì è stata veramente una grande partita abbiamo fermato il Barcellona, venerdì sera è stata veramente spettacolare sono molto contento eh, eh? cosa? e mi stanno dicendo che era il Napoli, scherzano sempre dopo che abbiamo bloccato Leo Insigne, Luis Suarez Mertens e Giorginio Iniesta devo ammettere che questa Juve mi piace tantissimo poi voglio sentire gli amici, le vedove di Conte, dove sono? se escono fuori adesso, visto che vinciamo a Napoli, no? saremo stati adesso, diranno tutti in difesa, catenaccio, eh? le occasioni migliori le abbiamo avute noi abbiamo fatto 4-5 azioni e non parliamo quella di Matuidi che era stra-pazzesca quello che è successo perché sembrava già gol e mi viene da ridere solo a sentire queste cose sono troppo contento non so chi c'è in studio con te, se c'è Valtteri a caccia o Camillo comunque un grande saluto è una soddisfazione esagerata e adesso sotto contro Olimpiakos e Inter e volevo fare un saluto comunque a quelli che ce l'hanno con Allegri che sono i mitici, le vedove di Conte, diciamo, eh? posso fare un saluto? ciao a tutti, ciao, ciao Marcello, ciao ciao